Mackenzie Scott ha donato la bellezza di 1,7 miliardi di dollari in beneficenza Nello scorso anno, che è costei, si tratta dell'ex moglie di Jeff Bezos, il patrón di Amazon, se non vado errato, o meglio di Twitter Donazioni che sono arrivate al gruppino profit, che sostengono la comunità LGBTQ Uguaglianze del genere, quelle che si vanno a battere contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze La donna, insomma, ha compiuto un atto di grande, di profonda, di pura, di assoluta, di totale generosità 1,7 miliardi di dollari in beneficenza Lo scorso anno, una vita, la sua basata proprio per fare del bene agli altri Questo evento, questo gesto, ci fa capire, ci fa comprendere di come è stata davvero magnanima Genuina in gamba e brava la signora In questione siamo Mackenzie Scott Vi ringrazio per l'ascurto, il video termina qua Iscrivetevi se vi va, commentate Un saluto con Carlo Delano, una da due Iscrivetevi al nostro canale